Via Oreste, non è che un coniglio col panciotto, il loro lodi Oh, può fare, può farissimo, è tardi, è tardi, è tardi Questa sì che è buffa, perché mai dovrebbe essere tardi per un coniglio? Mi scusi, signore! Ma che, ma che, non mi aspettano che me, in ritardo sono già, non mi posso trattenere Deve essere qualcosa di importante, forse un ricevimento Signor coniglio, aspetti! No, 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 è tardi, è tardi, sai, io sono già in mezzo in guai E pur posso dirti ciao, ho freddo, ho freddo, sai Toh, che strano posto per un ricevimento Lo sai Oreste, veramente noi, noi non dovremmo seguirlo Dopotutto noi non siamo stati invitati E la curiosità spesso è causa di guai Oh, caso! Addio Oreste, addio! Oh! Beh, dopo questo non farò più caso se... Oh! Se ruzzolerò per le scale Oh! Awww